Finalmente si torna alla vittoria, ha una buona prestazione, ma anche la Fiorentina ha dato filo da torcia. Sì, la Fiorentina è una squadra che gioca bene, questa lo sapevamo, è una squadra che attacca molto, però secondo me abbiamo consesso poco, solo calci piazzati o calcio da lontano, quindi mi hanno fatto vedere una grande personalità, abbiamo meritato quella vittoria. Come ho detto, la Roma ci sono nomi e ci siamo, quando si gioca da Roma è difficile non vincere, perché abbiamo veramente la qualità e oggi l'abbiamo fatto vedere. Garzia ha detto che per il campionato ci siamo anche noi, pensate così anche voi? Certo, penso che dall'inizio stagione vi ho fatto vedere che abbiamo tutte le possibilità per fare qualcosa quest'anno, oggi la Fiorentina sono a dieci punti e non è poco, adesso manca sei punti prima di Natale, bisogna fare il pieno e siamo capaci dei palli e poi faremo i punti già a Natale. Finalmente si è tornato a vincere dopo quattro pareggi, ora che l'atmosfera è più distesa, ovviamente tutta una vittoria, che è successo in questo mese? Perché c'è stata questa missione? Successo che c'era sempre l'avversario che ti mette in difficoltà, per giocare bene bisogna avere due squadre e quando trovi un avversario che si chiude dietro c'è meno possibilità perché è difficile ripartire, sono tutti dietro e oggi con questa squadra che ha provato a giocare è ancora più facile per noi perché c'è spazio, con quella raccoletta che abbiamo da lonti, con Gervinio, Adem e tutti, è più facile per il nostro gioco, però sicuramente abbiamo passato un mese un po' difficile perché noi siamo abituati a vincere e dobbiamo abituarsi a vincere se vogliamo veramente lottare fino alla fine, ma oggi vi ho dato un bel messaggio e spero che questa vittoria farà felicità. Grazie.